Il Presidente del Consiglio Comunale ha manifestato nei giorni scorsi un'impressione, sia quella che questa giunta sia troppo presa dall'ordinaria amministrazione, non abbia e non persegua soprattutto una visione che porti allo sviluppo di questa città. Lei come commenta tutto questo? Mi viene un po' da sorridere sinceramente perché il Presidente del Consiglio ha impostato una campagna elettorale sulle buche, adesso non gli interessa più che ci si interessi all'ordinaria amministrazione, in realtà io penso che si stia facendo tantissimo, non solo sull'ordinario ma anche sulla visione della città e stiamo semplicemente applicando e attuando il nostro programma elettorale che prevedeva di iniziare dal centro storico, questo stiamo facendo, stiamo prevedendo degli interventi anche infrastrutturali che curino il centro storico dal punto di vista dei servizi e dell'arredo. Secondo, quello che succederà nei prossimi mesi è che ci sarà una revisione del parcheggio di piazza Menor Rossi che avrà l'introduzione del parcheggio con cassa automatica per chiaramente ridurre l'evasione e investire le somme che si introditeranno anche sulla rividealizzazione del centro storico, ci saranno anche i varchi per fare la ZTL e quindi regolamentare la fruizione del centro storico in maniera ordinata e senza avere la necessità di servirsi di unità di Polizia Municipale o anche ausiliari del traffico e soprattutto ci sarà anche una cura verso l'arredo urbano. Noi abbiamo fatto un check su quanti cestini, per esempio, ci sono all'interno della città di Sciacca, ce ne sono 112, nei prossimi giorni ne arriveranno altri 73. Quello che vogliamo fare è proprio dare dei servizi alla città, ci saranno anche servizi come EcoDog, quindi anche per gli animali. Si sta creando di creare e dotare la città di servizi e infrastrutture che in tutte le città turistiche ci sono, nella città di Sciacca ancora non ci sono. Questo non tralasciando le periferie, perché molti di questi servizi arriveranno anche nelle periferie e tutti i cantieri che ci sono in questo momento per risolvere problemi atavici nelle periferie chiaramente sono a servizio di tutta la città. Quindi io non credo che ci si stia grattando i pollici. Probabilmente, e anche questo viene ritenuto ordinaria amministrazione, lui ha fatto riferimento ad esempio alla visione di città che implica uno sviluppo del turismo legato anche a un progetto importante come quello del porto turistico, al coinvolgimento degli imprenditori che hanno già investito in città o che possono venire a investire nella città, ai fondi del PNRR. Ma guardi, è chiaro, questa è una cosa che ci vede di pari passo, insomma. È chiaro che noi l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, per esempio, che sui fondi del PNRR bisognava fare tanto, ma tanto era già stato fatto. Io ricordo che per esempio Ignazio Messina sconoscesse il fatto che il Comune di Sciacca aveva già presentato sette progetti sul PNRR. Questi sono sette progetti presentati dalla vecchia amministrazione che noi stiamo continuando e che stiamo portando avanti, sempre per il principio di continuità amministrativa. Stiamo portando avanti anche progetti presentati da noi, perché su dodici progetti legati al PNRR, cinque sono di questa amministrazione, sette, otto sono della precedente amministrazione. Li stiamo portando avanti tutti. Ho sentito per esempio parlare di piscine comunali. C'è un progetto legato al PNRR di 1.200.000 euro sulle piscine comunali e mi sembra anche una cosa di notevole valore, presentato dalla precedente amministrazione e che noi stiamo continuando. Tra le cose che rappresentano la visione, credo che in campagna elettorale si è parlato tantissimo anche del complesso termale, anche su questo c'è aperta una finestra importantissima con la Cassa Depositi e Prestiti che abbiamo inseguito facendo le corse durante l'estate, proprio quando tutti anche negli uffici regionali chiaramente erano in ferie, siamo riusciti a far presentare questo progetto e ormai la cosa è nota a tutti che è stato proprio l'assessore e vice sindaco Gianluca Fisco a gestire personalmente questa cosa. Quindi credo che questa amministrazione in pochissimo tempo ha prestato tantissima attenzione ai servizi e alla cura quindi dell'ordinario che credo che in campagna elettorale un po' tutte avevamo detto che doveva essere la base di partenza per poi costruire il castello e poi si è intervenuto su tutta una serie di cose che sono quelle che ho appena detto ma anche tantissime altre che rappresentano la visione della città. Sulle termine per esempio noi siamo molto fiduciosi a differenza del Presidente del Consiglio e riteniamo che abbia molte possibilità questo progetto di vedere la luce e a quel punto significherebbe che entro il 2025 si potrebbe affidare a terzi. Il complesso termale a quel punto è riqualificato e ristrutturato e non credo sia una cosa da poco. L'idea di un porto turistico di realizzare veramente a sciacca far fare quel salto di qualità? Indubbiamente. Io guarda proprio negli scorsi giorni ho incontrato anche un'azienda che si occupa di idrovolanti che è interessata sul nostro contatto a investire su questo territorio quindi noi sull'attività di portistica e quindi anche sul turismo legato al porto siamo molto attenti e questa è una cosa che vogliamo sviluppare è chiaro che se non si è fatta in 30 anni non si può pensare che si possa fare in 5 mesi ma le stiamo programmando queste cose e dico anche un'altra cosa tutte queste cose sempre per rispettare il nostro programma elettorale non le stiamo facendo da soli perché molte delle cose che ho elencato sono state votate all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale io anche voglio approfittare di questa occasione per ringraziare tutto il Consiglio Comunale non per averci votato gli atti ma per aver condiviso questa idea strategica di rilancio del territorio perché io ho sempre detto e l'ho detto per esempio durante la prima seduta che noi non avremmo mai elemosinato un voto in aula ma avremmo chiesto un consenso su un'attività amministrativa che deve vedere partecipare anche i consiglieri di opposizione e questo sta succedendo io sono molto contento dell'atteggiamento dei consiglieri di opposizione che arriverà anche il momento in cui bocceranno qualche proposta ma perché non la riterranno utile per la città e ci mancherebbe altro e questo è il sale della democrazia ed è giusto che sia così ma in questo momento le proposte utili le stanno votando e le stanno anche sollecitando quindi in questo momento si sta lavorando benissimo e credo che... c'è stata in realtà anche una polemica su atti che arrivano all'ultimo momento che non consentono ai consiglieri di essere studiati di essere valutati con calma ma guardi questa è una polemica che è atavica nel senso che io sono stato anche consigliere di opposizione quando ero consigliere di opposizione anche io mi sono trovato in alcune occasioni a lamentarmi di questa cosa è vero che gli uffici sono obberati di lavoro ci sono dirigenti che lavorano pure la notte in alcuni casi e si aspetta a gran voce l'ingresso delle nuove unità di personale che a brevissimo entreranno nell'organico del comune di Sciacca sappiamo già che non basteranno e quindi sul personale bisognerà fare un'altra razionalizzazione e quindi rifunzionalizzazione di tutti i servizi ma è anche vero che in tanti casi probabilmente non c'erano i tempi canonici per l'osservanza di tutti gli adempimenti legati alle commissioni consigliari ma c'erano 20-25 giorni per studiare gli atti sono anche abbastanza in alcuni casi però è vero che su questo bisogna far accelerare gli uffici ma consapevoli del fatto che ci sono tantissimi problemi legati al personale A proposito di impressioni ci si aspettava da questa giunta giovane piena di entusiasmo una velocità maggiore su alcuni temi cito come esempio la sanità una questione importante per Sciacca al pari di quella termale e soltanto adesso sta arrivando questa famosa convocazione della riunione con i sindaci sono passati mesi come mai? Guardi io privilegio sempre il dialogo nelle cose quindi ho avuto un paio di confronti con il commissario Zappia ci sono stati degli impegni presi che in alcuni casi non sono stati assunti adesso ho coinvolto tutti i sindaci devo dire che tutti hanno accolto con favore anche l'invito e quindi venerdì 25 novembre ci sarà una prima riunione dove tutti dobbiamo capire che cosa vogliamo fare della sanità pubblica e su questo io sono molto fiducioso perché l'ospedale di Sciacca serve zone importanti e quindi sono molto fiducioso sul fatto che non sarà la battaglia di Sciacca l'ospedale di Sciacca ma sarà la battaglia di un intero territorio quindi credo che rispetto agli impegni presi Per come si sono messe le cose ultimamente però è tornata, lei lo sa la famosa questione di Atriba tra Sciacca e Ribera sembra quasi che si sia tornati a questa contrapposizione che poi però rischia di danneggiare entrambe le strutture lei che idea si è fatto anche a fronte di questi comitati di queste rivendicazioni che arrivano da Ribera? Ma io penso che sia un errore fare una battaglia tra Sciacca e Ribera perché è quello che proprio vuole la politica agrigentina secondo me io credo invece che bisogna pretendere dalla regione, dalla sanità regionale che l'ospedale di Sciacca abbia i servizi per i quali è stata classificata Dea di primo livello oggi questo non succede quindi per quanto mi riguarda l'orizzonte a cui guardare è questo Sciacca deve essere Dea di primo livello non soltanto sulla carta ma anche nei fatti è notizia di poche ore fa anche una situazione inverosimile all'interno del pronto soccorso di Sciacca con gente che aspetta 12-13 giorni prima di essere ricoverata quindi credo che non si possa più indietreggiare su questo tema e faremo le barricate per quanto ci riguarda con tutti gli enti che vorranno darci una mano e sono convinto che tutti i sindaci saranno su questa battaglia perché la battaglia non è Sciacca e Ribera ma la battaglia è tra il versante agrigentino e il versante occidentale che non è una battaglia perché per quanto ci riguarda è giusto che tutti gli ospedali che si sono classificati come Dea di primo livello abbiano i servizi per i quali sono stati classificati quindi se è agrigento o celiale deve avere anche Sciacca o comunque Sciacca li deve avere Senta a proposito di rilancio della città di Sciacca Siamo ormai a ridosso del Natale anche se le temperature in realtà dicono tutt'altro e poi siamo anche in ritardo per il Carnevale verso il quale la vostra amministrazione ha annunciato comunque la volontà di riproporre la manifestazione a partire da quest'anno Che novità ci sono visto che ormai insomma ci siamo? Allora sul Natale stiamo già definendo il programma delle festività natalizie quindi nella prossima settimana al massimo all'inizio della prossima ancora ci sarà il programma definito Per quanto riguarda il Carnevale è chiaro che tutti sanno che l'edizione che ci appresteremo a vivere è un'edizione abbastanza particolare perché deve risolvere una serie di problemi che sono stati causati sia dal periodo per il quale non si è fatto per cause di forza maggiore ma soprattutto anche per quello che è successo e quindi noi stiamo lavorando incessantemente su questo perché riteniamo che il Carnevale debba ripartire ma con una nuova progettazione quindi anche lì visto che si è parlato di visione si sta pensando tanto a una visione progettuale sul Carnevale di Sciacca e ci stiamo prendendo il tempo che è necessario per risolvere i problemi perché è chiaro che l'edizione che ci ha lasciato è un'edizione che ci ha lasciato con tanti problemi da risolvere e quelli dobbiamo andare a risolvere ma sicuramente insomma si sta lavorando per garantire una festa del Carnevale di Sciacca che deve essere la festa della ripartenza In ultimo le chiedo sono passati 4-5 mesi dall'insediamento che bilancio posso stilare? È soddisfatto? Si aspettava di incidere maggiormente? Guardi io sono soddisfatto però è chiaro che sono soddisfatto come amministratore se devo ragionare come cittadino non sono soddisfatto nel senso che ci sono tantissime cose ancora da fare ne siamo consapevoli e sapevamo che avremmo trovato una situazione non legata a precedenti amministrazioni ma anche legata al fatto che i comuni sono stati abbandonati in questi anni quindi sapevamo che il personale sarebbe stato risicato sapevamo tutte queste cose e quindi ci siamo assunti l'impegno nonostante sapessimo tutte queste cose adesso è chiaro che stiamo dando il massimo ma non si sono risolti ancora tutti i problemi che attanagliano questa città è chiaro questo quindi sicuramente come amministratori siamo molto contenti anche perché c'è una squadra molto affiatata che lavora palmo a palmo su tutti i problemi su alcune cose ci sono anche deleghe che agiscono intersettorialmente quindi c'è molto affiatamento anche con gli uffici devo dire perché ci sono uffici che si stanno veramente dedicando anche a volte oltre l'orario di lavoro per garantire che le cose si facciano e quindi c'è una squadra comune che io avevo professato in campagna elettorale che si sta creando aggiungo ancora una volta anche con tutti i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione che stanno dando il loro contributo penso che questa esperienza possa essere un'esperienza spartiacqua per questa città perché il fatto che ci sia un'amministrazione che non ha i numeri in aula sta giocoforza facendo nascere una nuova classe dirigente che riesce a dialogare e a risolvere le cose anche su posizioni diverse questa situazione che si è creata sta generando una positività e io ne sono molto contento di questo ci sono anche consiglieri comunali che da anni calcano quell'aula che adesso io li vedo con una prospettiva molto diversa io sono contento di questo credo che questo caso abbia creato un'esperienza positiva ma politicamente noi ci trascineremo ancora per i prossimi mesi visto l'esito di questo ricorso la decisione del TAR questa sorta di fibrillazione e questo avere un sindaco in carica un aspirante sindaco presidente del consiglio comunale da parte nostra noi stiamo amministrando perché siamo consapevoli del ruolo che la città ci ha dato quindi noi stiamo amministrando è chiaro che legittimamente chi ha perso le elezioni sta portando avanti un ricorso rispetto a questo ci tengo a dire che il ricorso al TAR non è stato accolto come è stato detto è semplicemente stato ammesso quindi adesso si dovranno verificare le schede probabilmente si potrebbe anche verificare che saranno ancora maggiori gli scarti quindi dico questo anche per dare le notizie certe cosa succederà? succederà che a un certo punto questo ricorso finirà io mi auguro che quando finisca quando finirà questo ricorso ci sarà un sindaco ma anche un presidente del consiglio perché la città ha bisogno anche di un presidente del consiglio consapevole del ruolo che ha grazie a tutti